E' O'Bannu? Sì signora, quello che ne è rimasto, uno dei nostri si occuperà del corpo. E' Le Chiffre? E' di nuovo al tavolo, ma non per vincere. Credo che Bond possa batterlo. Ha vinto le ultime due mani. So che è il miglior giocatore dei servizi. Posso confermarlo? Dopo che avrà perso, Le Chiffre si è portato subito qui. Un uomo disperato e pericoloso. E' imprevedibile. Mi pare lei conosca bene la situazione. Le Chiffre ha perso più di cento milioni di dollari. Difficile da dimenticare. Su, vediamo. Quindi Bond ha vinto? Sì, ma c'è un problema. Vesper è stata rapita. Le Chiffre l'ha presa ed è fuggito. Bond sta inseguendo la sua auto. Si dirigono verso la costa. Le Chiffre ha uomini e munizioni sulla vecchia chiatta a sud di Petrovac. La porteranno là. La Aston Martin. Bond ha avuto un incidente. Accenda il telefono. Lo accenda. Incidente, signor Bond. Mettetelo in macchina. Levategli il telefono. Lo accendio La vedo! Ci ritiriamo! La vedo! 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 Sulemani! 007 riesce ad abbassare quella torre di servizio. La vedo! La vedo! La vedo! Eccolo! La vedo! 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 Grazie a tutti. C'è qualcuno? Ma che... C'è qualcuno? 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 Grazie a tutti.